Salve, ciao a tutti, questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda come sempre, ormai da dieci anni, sulla Deogama 5. La trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, ore 15, 16 e 30, ore 19, ore 20. Allora, prima di iniziare a parlare di vari argomenti, da cui appunto abbiamo promesso al nostro amico Luca di parlare anche di acqua, vedremo di improvvisare qualche parolina sull'argomento, proprio perché ci sia una certa continuità con la trasmissione precedente. Voglio ricordare un po' di incontri, appuntamenti, circostanze, luoghi in cui ci si può trovare. Il più vicino di tutti, come impegno e come rito, è sabato 25 marzo alle ore 17, a Jesro, presso il Bosco Ossaco della Federazione Pagane, ci sarà il rituale dell'equinozio di primavera. Sapete appunto che l'equinozio di primavera per noi pagani rappresenta un momento della luce, del ritorno, della luminosità, il rifiorire della vita da trone e l'equinozio sono in sintonia, in armonia e collegati coi ritmi della natura. E appunto la natura comincia, la primavera comincia a risveglio, c'è il ritorno del fiorire, del verde, degli elementi vivi, delle piante attorno a noi. E anche durante la trasmissione capiremo quante sono importanti le piante, come gli antichi pagani che sapevano che le piante, la natura, erano una divinità e in ogni luogo, in ogni pianta, in ogni fiore rappresentava una divinità, una ninfa. E come questo era stato sempre un elemento basilare di riferimento di ogni religione pre-cristiana, anche la scienza in questi ultimi tempi deve riconoscere che i pagani come sempre avevano visto giusto e che a reputare la divinità della natura, l'importanza, la sacralità del mondo, il fatto che le piante comunicassero con gli uomini e noi fossimo capaci di esserne sedotti, di essere vicini, di percepirle, di viverle, fosse un dato fisico e di essere un dato reale anche per la scienza e che le piante non solo comunicano con noi ma comunicano anche fra di loro. E questa è una cosa che proprio anche recenti studi, studi avviati proprio anche in università italiane, stanno a cercare di comprendere come le piante vadano a comunicare. A me piace ricordare un piccolo detto famosissimo degli indiani d'America, un piccolo racconto, in cui si disse che esistevano tre popoli, il popolo degli uomini, il popolo delle piante e il popolo degli animali, che questi tre popoli vivivano in armonia, vivivano in simbiosi, vivivano in contatto e fra loro non esistevano contrasti. A un certo punto questa armonia si ruppe, qualcosa si saltò e il popolo degli animali decise di eliminare il popolo degli uomini. Scoprendo questo le piante decisero di intervenire e non poterlo impedire la guerra, pur di cercare di fermare la cosa non si riuscirono e decisero di tramutarsi in piante medicinali o medicanali proprio per essere d'aiuto all'uomo nel combattere questa battaglia. Questo si dice che ogni cosa si trasforma, che esiste sempre una continua trasformazione, che il mondo che è attorno a noi non è statico, non è immobile, non è fissato, ma è capace di subire anche dei cambiamenti, è capace di agire sia per la propria funzione, per la propria necessità, ma è capace di vivere in simbiosi con gli altri. In particolare con noi uomini, che siamo la specie più diffusa, più attiva, più dinamica e molte volte anche un po' suicida, visto certe idee monoteistiche che si sono affermate nella nostra cultura, in cui dicono che il mondo è creato, il mondo è animato da Dio, è creato da Dio e di conseguenza le cose hanno valore in quanto creature di Dio. Questo principio che è entrato nel mondo ha modificato radicalmente il nostro rapporto, la nostra percezione, il nostro contatto, il nostro vivere con il mondo che c'è attorno. E allora, partendo da questo concetto, che il mondo prima non esisteva, che è la follia dei monoteisti, il fatto che un Dio lo crei e lo possa distruggere, lo possa nientare, gli uomini che sono stati creati per i cristiani e per i monoteisti ad immagini del loro Dio possono permettersi qualsiasi cosa. E punto per i monoteisti, il mondo non è bello, non è vivo, ma è un dono di Dio e di conseguenza è una cosa che può essere data, che può essere tolta e che non ha significato, ha soltanto un valore di scambio, non ha un valore intrinseco, cioè il valore di scambio significa perché Dio è importante per i monoteisti, ti dà un qualcosa se tu puoi fare qualsiasi cosa in quanto è un regalo a perdere. Invece i pagani sanno che non esiste nella realtà nulla che sia a perdere. Significa che tutto è importante e che tutto è divino e che ogni cosa ha sempre un valore intrinseco in se stessa. E perciò il rapporto tra i pagani e la natura è anche quello di ricordare i cicli cosmici. Certo, i cicli cosmici appartengono al nostro pianeta o al nostro sistema solare, però il nostro pianeta e il nostro sistema solare è basilare per la nostra vita. Sappiamo che l'universo è infinito, sappiamo che infiniti sono i pianeti, le costellazioni e le stelle, però noi viviamo su questo pianeta e noi viviamo in simbiosi con questo pianeta. Questo pianeta è una divinità che aiuta la vita e ne trae il beneficio che la vita esista. E di conseguenza noi dobbiamo ricordare gli eventi cosmici, il ciclo della natura che lega la nostra vita, che lega tutto il nostro ambiente e tutte le nostre possibilità e tutte le nostre circostanze. Perciò appunto con l'equinozzo di primavera si vuole ricordare questo, si vuole festeggiare questo. Il rituale pagano non è un rituale di qualcosa di inventato e codificato poi da qualcuno. In realtà ogni pagano può inventare qualcosa, proprio perché la trasformazione è continuo cambiamento, è continua invenzione, è nuova riaggregazione delle cose, è nuovo modo di presentare le cose. Perciò un pagano può trovare opportuno, necessario o perché gli piassi in quel momento definire un rito. Questo rito non diventa un qualcosa di inviolabile, perché quello che è importante è il fatto che l'uomo manifesta il proprio desiderio di essere in contatto con la natura. perciò non può esistere una codifica, non può esistere un libro santo, un libro che imponga i rituali. I rituali appunto vengono fatti da ognuno e ognuno li inventa e ognuno li organizza, li cambia, li modifica. Questo appunto proprio per ricordare quanto è importante il fatto che ogni pagano sia creativo. Sì, pronto? Sì, ciao. Dimmi pure. Sì, conosco la macro, probabilmente si hanno prodotto diversi libri su di... Sì, beh, che è un'arte orientale, che è quella anche poi della geobiologia, quella di vivere in armonia con il proprio ambiente. Che c'è, che c'è appunto una pagina, piante, fiore, simbolismo, una pratica del fenomeno, che c'è, acacia, simbolismo, stabilità, bicocco, fertilità e in fondo che c'è la polarità, yang, 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 praticamente c'è più orientale. Beh, non è che c'è più orientale perché guarda adesso proprio io avevo in scaletta una cosa e visto che tu la sollevi ne parlerò. Sì, sì, perché è molto importante perché per esempio adesso è il tempo del narciso, fra poco, no, in maggio. Sì. Il narciso mette ringiovanimento e polarità dello yang, adesso c'è il geranio, determinazione. Sì, beh, oltre a questo c'è il discorso che ogni pianta ha una sua capacità di modificare anche le personalità. Esatto, esatto. Ecco, adesso un'altra cosa, sai che domani cominci a Roma, sì, non so, però hanno detto che in America e in altre nazioni lo fanno integrale, lo trasmettono integralmente e le scene più crude le hanno tagliate, in Italia le hanno tagliate, cioè è proprio veramente assurdo, lo dicono proprio perché ci sono scene per esempio che violentano Ottaviano da piccolo, no? Sì. E quella era l'Italia, no? Poi ci sono scene di tortura degli schiavi e via dicendo che praticamente sono scene da non far vedere in Italia, non si sa perché, come ho letto così... Sì, beh, sai, a parte che poi bisogna vedere anche quanto è attendibile dal punto di vista storico la cosa, perché se tu pensi che per quanto sei un proprietario di schiavi, se mangiattava gli schiavi era destinato al confino, perciò... Non credo, perché non credo, perché come dicono loro che tagliavano a striscioline la pelle degli schiavi, non credo, perché... No, no, guarda, proprio perché nell'impero romano esisteva una norma di legge che chi maltrattava i propri schiavi era destinato, il padrone andava al confino e vivere al confino ai tempi dell'impero romano non era certo comodo come adesso, cioè non è comodo neanche adesso, ti puoi immaginare allora, insomma. In poche parole hanno detto che 2050 anni fa non era come adesso, cioè è una cosa, la vita era praticamente più corta, innanzitutto è più, praticamente più, la vivevano con più... Vedi, è un dato, anche questo è un dato falso, perché è un dato statistico, esisteva più... Sì, no, ma ti spiego, logicamente il discorso è questo qua, c'era più mortalità infantile, c'erano appunto più condizioni di disagio, perciò rispetto ai morti se facciamo la media è sempre il discorso del pollo, sai, se io ne mangio due, per la statistica ne hai mangiato uno anche te, perciò se uno, capito, vive 70 anni e un altro vive un mese, la media è 35, comunque è un colossal, l'hanno detto, è un colossal, adesso fanno le prime, cioè in tutto sono 60 puntate, una cosa pazzesca, proprio, fanno una cosa, adesso fanno la prima parte, che non so di quante puntate, poi riprendono... Sì, è un serie televisivo praticamente. È una serie televisiva, sì, però, quando hanno detto, hanno scritto che in Italia vengono tagliate, vengono tagliate delle scene, uno dice di no, l'altro dice di sì... Beh, sai, purtroppo la censura è un elemento che è presente da sempre nella nostra cultura... Sì, 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 ma io ci credo che taglino qua in Italia, che venga censurato, perché qua in Italia, naturalmente, siamo abituati a queste cose, insomma... Sì, infatti, sull'argomento censura ho anche qualcosina in merito, insomma... Sì, appunto... D'accordo? Bene, ciao Ivano, ciao... Sì, ecco, dicevo appunto... Che l'importanza del rapporto con la natura è stata sempre presente ed è sempre considerata basilare in ogni religione pre-cristiana, proprio perché si sapeva che il mondo è sacro... Sì, è pronto? Pronto? Sì? Pronto? Veloce! Sì, veloce! Io, noi altri siamo come schiavi nel tempo di domani, perché se noi altri guardiamo come è la situazione adesso, noi altri abbiamo le risorse energetiche contadine che non vengono pagate e quelle che vengono dal petrolio, che sono anche mie, non solo di quelli che fanno una guerra preventiva o che voglio prendersi per sé e per dominio, perché sono anche mie e io voglio conservarle e non consumarle, perché non lo voglio consumare anche mie... Perfetto, chiarissimo Alessandro, il problema energetico l'ha illustrato chiaramente, grazie dell'intervento. Sì, di fatti appunto, questo sarebbe un problema lunghissimo, ma Radio Gamma 5 non è certo prima di trasmissioni che sono capaci di affrontare l'argomento appunto della crisi energetica o delle fonti alternative. Perciò appunto il nostro amico Alessandro ha tutto il palisesto di Radio Gamma 5 in cui si può sbizzarrire di affrontare queste tematiche, anche perché questa radio ha una tradizione a 30 anni e tematiche che gli altri hanno sempre scartate, hanno sempre, sono sempre affrontate con due vizi di particolare, con curiosità e con interesse e perciò chi l'ha ascoltata con metodo ha certo acquisito un bagaglio di informazioni enorme e penso che questo possa giovare anche il nostro amico Alessandro che si ascolti con attenzione tutta Radio Gamma 5. Però l'amico Ivano ha sollevato una cosa interessante, che è quello del rapporto appunto con il mondo. E allora, tra le cose che io volevo inserire proprio di parlarne, era il discorso del rapporto con le piante. Proprio in questi giorni sono uscite una serie di articoli che sono interessanti e che ci dicono qualcosa in merito. Allora, il Corriere della Sera comincia martedì 14 marzo a Firenze, un laboratorio sull'intelligenza delle impiante e parla il direttore e dice che le impiante ragionano per risolvere i problemi della sopravvivenza, per scegliere momenti del riposo, per trovare nutrimento, per riprodursi, difendersi, minacciare, aggredire, proteggere i figli. Ora vogliamo sapere come comunicare con loro e come mettere a frutto tutto ciò. Cioè, qui si sta parlando di un laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale che è l'INV e che appunto sarà presentato a Firenze in questi giorni. Ma il fatto che le piante fossero capaci di ragionare, di agire, di comunicare, noi l'abbiamo sempre saputo. Se voi pensate a tutti i racconti mitologici che ci parlano delle driadi, delle amadriadi, che ci parlano delle varie ninfe presenti in ogni forma vegetale, in ogni fiore. Ma soltanto se noi stiamo alla nostra esperienza, del rapporto, del contatto, della capacità che ha il profumo di un fiore, di cambiare il nostro umore, di come il colore di un fiore possa attirare la nostra attenzione, di come con cura molti di noi curano i propri fiori, le proprie piante, il proprio giardino. E come ne trovano piacere, ne trovano giovamento, ne trovano felicità. E come si vada a cercare l'accostamento della pianta giusta e il come si pensa a disporle da dove siamo in periodo primaverile. E ci dice molto, questo periodo proprio dell'attaccamento delle persone verso le piante, sappiamo che le piante hanno un potere enorme. Lasciando stare il potere dell'erboristeria e il potere medio che possono avere, loro hanno anche qualcosa che non ha a che fare con questi aspetti puramente utilitari. Cioè un fiore profumato o colorato non serve soltanto per fare qualche decotto o per fare qualche tisano o qualcos'altro, ma in sé stesso, per la sua bellezza, è capace di modificare molte cose, è capace di modificare l'ambiente che gli ha attorno, è capace di cambiare il nostro umore, è capace però anche di comunicare, è capace appunto di avere la possibilità di ragionare. E il fatto che appunto, si dicono, le piante ragionano, per qualcuno può sembrare una scoperta incredibile, ma in realtà noi pagani lo sappiamo. Dice un altro articolo, questo è la Repubblica di giovedì 9 marzo 2006. Siena, un laboratorio studerà il linguaggio verde, i ricercatori lo fanno per sopravvivere, scopriremo un mondo inesplorato, le piante sono intelligenti, ragionano, si difendono, comunicano, caccia e segreti degli alberi. Un'ulteriore conferma, se ne avevamo bisogno, della capacità delle piante di essere un mondo, di essere un popolo, di avere funzioni enormi che molte volte noi siamo anche incapaci di comprendere, di seguire o di utilizzare o di comunicare con loro. Cioè nel senso che la comunicazione è una parte fondamentale della vita, di tutte le forme di vita esistenti. La comunicazione appunto non è solo la comunicazione verbale. Le piante non hanno certo bisogno di una radio, una radio ne abbiamo bisogno noi come persone per poter comunicare, per poter dire, per scambiarsi le idee. Invece le piante comunicano per altre vie, per modi che noi molte volte non comprendiamo o non siamo capaci di percepire. Però questo potere ce l'hanno e per molti secoli li abbiamo considerate legna da ardere o elemento secondario. Ma dovremmo capire che tutto attorno a noi ha una sua intelligenza ed è capace di comunicare. Sì, pronto? Ciao Francesco, sono Giussi. Io devo dire, no, le piante sentono, aggepiscono il pensiero positivo della persona, no? Magari, secondo me, può essere, o che io ho sentito ancora, una musica dolce che appunto le fa rifiorire, eccetera. E voglio dire un'altra roba, ma adesso non si sente. Sì, beh, non importa, se te la ricordi, i telefoni sono sempre aperti. Ah sì, è come le vacche, no? Quando magari senti una musica che gli fa piacere, dice che si fa molto più latte, che si fa maldicerie, lo avevo fatto concreto, penso. Sì. Va bene, ciao, grazie Francesco, buon programma. Grazie. Sì, difatti appunto diceva questo articolo, che parlavamo delle piante e della sua capacità, diceva che le piante hanno emozioni, dice il professor Mue dell'Università Vaseta di Tokyo, innestando delle elettrode alle loro foglie, si è riuscito ad ottenere dei mormori sommessi e degli urli quando la foglia veniva avvicinata da qualcosa. E questo appunto è una capacità che noi con il monoteismo abbiamo perso, quello di comprendere il mondo come animato. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao, sono Guido. Niente, volevo elencare, a mio avviso, quali sono i demeriti del monoteismo a fronte del politeismo, del paganesimo, del politeismo. Sì, beh Guido, questo lo puoi dire, ma qua ci voglio... Il monoteismo, avendo un Dio unico, esclusivo e geloso come quello vetero testamentario, è per necessità di cose un Dio intollerante, fomentatore di guerre e difatti basta leggere la Bibbia e si vede che il popolo ebraico, avendo a guida il Dio degli eserciti, Deova, ha sterminato un popolo, i caldei, i cananei, i feristei, tutto quello che poteva sterminare l'ha sterminato. Ecco, e poi voglio dire, la sua pretesa di essere l'unico vero Dio porta all'esclusione delle altre divinità come divinità appunto false e bugiarde, è depositario della verità, l'unico Dio e lui, quello vero, esclude tutti gli altri. Poi questo quindi è un demerito, demerito perché? Perché è fomentatrice di intolleranza, l'intolleranza genera guerre, giusto? Oggi tra le genti. Poi, un altro demerito del monoteismo è la subordinazione della morale alla religione, è più importante credere che agire bene secondo criteri di bontà. Qualcuno ha visto l'episodio di Abramo che sacrifica Isacco come la prevalenza dell'ordine di Dio su principi morali che avrebbero dovuto indurre Abramo a risparmiare il figlio. L'episodio non è visto come un invito a uccidere i propri figli, ma è un esempio, io, adesso non so che filosofo ha fatto questa considerazione, ma è un esempio di come si vuole porre la morale, no scusa, si vuole porre il credere religioso al di sopra della morale. Sì, al di sopra dei sentimenti degli uomini che è la cosa peggiore. Sì, è una cosa disastrosa questa. Ricordo appunto che morale significa morsi, che significa costumi. Perché ci sono delle divinità che sono anche feroci, quindi sarebbe il trionfo della ferocia su dei principi che gli uomini stentatamente cercano di darsi al fine di rispettarsi e di convivere pacificamente. Quindi è un esempio orrendo questo. Poi, vediamo cosa mi viene in mente, perché a una certa età la memoria insomma diventa una specie di colabrodo. No, ma ti sento lucido perciò insomma. Poi ti sento una roba facile. Il merito al politeismo di essere tollerante, perché lì dove ci sono più divinità c'è spazio anche per altri. Cioè, il Panteum è una sede aperta ad altre divinità. Infatti, quando i romani conquistavano un popolo, si appropriavano anche delle loro divinità o cercavano delle affinità al fine di vedere se un loro dio coincideva con il dio dell'altro popolo, Zeus. Ma c'era anche un rituale che si chiamava della seductio, cioè in cui praticamente prima di conquistare una città si invitavano l'idea di quella città a andare a Roma o passare con i romani. Poi, un'altra cosa che io vedo come un demerito, sempre in raffronto ai meriti quindi come conseguenza del politeismo il demerito del monoteismo è quello di subordinare la salvezza alla credenza. Cioè, se tu credi, trovo scritto nei Vangeli, ti salverai. E' più importante il credere, che io identificherei con la credulità, non so che merito possa avere la vecchina che crede alle bubole, che abbia più merito di me, se c'è una salvezza al di là, che è opinabile, che si possa salvare nei confronti di uno che invece nella vita non ha creduto, io non ho mai creduto, con le bubole, perché riesce difficile, intanto che conservo questo lume di razionalità, ecco, non so perché la vecchina deve salvarsi e dove andrò a finire, perché mi sono comportato bene. L'assurdità del monoteismo. Un'altra cosa che ho riscontrato è che è una, non so, visione realistica dell'universo nel suo insieme e che invece il cristianesimo esclude il destino, il fatto, cioè c'è una forza delle cose negli avvenimenti che è superiore alle vicende sia umane che divine, mentre il Dio piglia tutto ed esclusivo che dispone della vita degli altri, non riconosce il fatto, cioè tutto dipende da Dio, invece se tu, no se tu adesso mi permetto, se uno legge la mitologia riconosce che il protagonista delle vicende dell'universo, dell'uomo e degli dei quindi anche, è il fatto. Un esempio, Apollo mette sull'avviso Edipo e gli dice sta attento che tu corri il rischio di uccidere il tuo padre Laio e di commettere incesto con tua madre, una cosa orrenda per la mentalità di allora e anche adesso, ecco, eppure Edipo si dà da fare, scappa via da Tebbe perché lì è nato a termine di incontrare, non so, suo padre che non lo conosceva perché era stato raccolto da un altro signorotto del posto e allevato, ecco come orfano e succede che invece uccide il padre mentre scappa da Tebbe e dopo è come premio alla moglie di Laio e sarebbe sua madre come incesto, quindi il fatto, il volere del fatto ha superato quello che Apollo non voleva che accadesse, ecco voglio dire c'è anche questa presenza che equilibra il destino di tutti insomma Sì, però il dover vivere è una cosa che nessuno può sopprire Ecco questi sono meriti, meriti del politeismo che io riconosco il politeismo mi dispiace che forse esiste anche nella vita una legge superiore che spazza via quello che non è più adatto agli uomini, il paganesimo purtroppo è stato spazzato via No, perché il monoteismo ha solo messo qualcosa sopra, ha solo messo su, ha coperto le cose Resiste nei secoli, anche nei millenni Beh sai, quando c'è un alluvione, vedi Guido, Guido, Guido mi senti? Può ammettere che l'uomo peggiora con l'andare del tempo di migliorare Per cui va bene le cose peggiori, non lo so che riflessione fare Ma vedi Guido, mi senti? Ecco, io sono innamoratissimo della mitologia perché ho fatto liceo classico Insomma, sono dalla parte del paganesimo, della mitologia classica, secolo romano eccetera Va bene Queste cose mi dispiacciono e non so, sarei così che auspico un ritorno al paganesimo Bene, un taffetto Ecco, ti saluto Grazie, ciao Guido Ciao, ciao No, ecco, Guido ha sollevato due cose Il fatto dice che il paganesimo può sembrare superato In realtà il paganesimo non è superato E quando succede un alluvione di fango, le case vengono coperte Tirare via questo fango diventa un lavoro impegnativo, un lavoro gravoso, pesante Però sotto rimane sempre la casa, rimane sempre quel paese E' sempre la capacità degli individui, dei popoli, delle comunità di ricostruire e di portare via questo fango In realtà il monoteismo è questo fango che ha contaminato le nostre anime, la nostra psiche, il nostro cervello Ha sporcato moltissimo, ha fatto delle cose disastrose e noi con abilità ce ne siamo accorti di questa disgrazia E lentamente, lavorando con metodo, con precisione, stiamo ripulendo la nostra psiche, la nostra anima E speriamo di riuscire a ripulire anche il mondo da questa contaminazione, da questa alluvione Certo appunto che poi ci dovremmo anche chiedere da dove è successa questa alluvione E dovremmo porre anche un argine a questo, in maniera che questo non succeda Ma anche Guido ha sollevato una cosa che è interessante Diceva che il dio dei monoteisti non ha nessuna considerazione e non dà nessun significato della volontà degli individui E questo è vero, perché se voi pensate che tutte le religioni monoteistiche si considerano discendenti di Abramo Sia l'Islam, sia l'ebraismo, sia appunto il cristianesimo A un certo punto Abramo sta per i cavoli suoi a Ur dei Caldei Arriva questo dio e lo comincia a far viaggiare, lo comincia a spostare come una pedina dove vuole Sullo scacchiere del Medio Oriente Però questo è il comportamento tipico in cui il monoteismo dice che c'è un dio che è in positivo D'altronde il dio stesso dei monoteisti dice che esige la sottomissione completa totale Al contrario noi abbiamo un esempio magnifico nella metodologia di quando Zeus, travestito da toro, rapisce Europa In realtà non la rapisce perché la notte prima invia dei sogni ad Europa Europa fa questo sogno che sarà questo suo rapimento E quando la mattina sulla riva del Mediterraneo vede questo toro che si inginocchia davanti a lei Lei liberamente sale sul dorso di questo toro e attraversa appunto il Mediterraneo per arrivare ad essere Europa Anche in questo caso viene descritto come un rapimento In realtà è un messaggio, una possibilità Il toro pur essendo Zeus si inchina e aspetta la scelta, la decisione di Europa E questo è il comportamento in cui il paganesimo dice Io posso chiedere un qualcosa e l'altro è libero di darlo o non darlo Sì, pronto? Mi sembra che caschi in errore quando il signore ha detto che la Grecia laica e sapienziale non è una religione Ha detto che è un monoterismo No, no, non l'ha detto Poi il terismo Invece, come mentre la Grecia sposa la sapienza Questi sposano i ladroni Perché sono ladroni, perché hanno i poveri di tutti Il discorso è che sono due religioni precise e uguali No, ce li so Però per l'uno è ladrono e l'altro è sapiente Forse è questo discorso che cambia Le religioni non sono tutte uguali comunque, Alessandro No, ma nel senso di religione Come questa ha avuto i progetti Con la sapienza ha avuto i progetti Se si prende il vaccino e accendia Ma vedi, la sapienza e la conoscenza Poi si è fatta soltanto se tu sei capace di comprendere Se uno non diventa intelligente perché crea qualcosa Fa parte della cerca di Dio Dire il creatore, il creato, l'universo Il mondo non è creato e non esiste creatore Sì, ma vuol dire che ci sono parole Però le creature, le creature di questo mondo Ma noi non siamo creature Nessuno ci ha creato L'infinito, l'infinito L'infinito è pieno di cose, di persone, di divinità No, appunto, appunto Siamo proteggi verso l'infinito, verso la sapienza Ma anche noi siamo infinito Abbiamo costruito una regione per la vita Per cui siamo greci, siamo sapienti Mentre gli altri hanno solamente la fede della donna Va bene, perfetto, grazie Ciao, ciao Sì, difatti, come dico, le religioni non sono tutte uguali Esistono delle differenze che sono abissali Pur essendo la nostra definizione Quello che è determinante è il contenuto Il significato, il valore delle cose E il cosa riescono a manifestare E il cosa riescono a portare E il come sono anche fatte Quando appunto dicevamo Il monoteismo è sempre in posizione E sempre all'improvviso In un luogo circoscritto Che compare questa follia È una follia che ha bisogno Che le persone l'accettino Abbiano fede Il Dio dei monoteisti Esige la sottomissione e l'accettazione Della sua divinità Nel paganismo questo non esiste Perché nessun Dio Per quanto potente Impone Può chiedere Può cercare di sedurre Può cercare di manifestare la sua potenza Però sa che gli altri elementi Gli altri individui Gli altri cose Sono delle divinità Che li possono resistere E per questo è importante capire Che pur parlando di religione O religiosità pagana E parlando di religione monoteista Siamo su due temi Totalmente diversi Proprio per contenuto E per significato Io ricordo Per chi vuole intervenire I numeri telefonici Che sono 049 700 700 E' 049 700 838 Questo discorso Era partito Dalle piante Dopo queste scoperte scientifiche In cui si dice Che le piante sono intelligenti E allora Le piante Non hanno mai avuto bisogno Di profetti Non hanno mai avuto bisogno Di salvatori E' soltanto la follia Di poche persone Che hanno portato L'umanità a pensare Che esista il bisogno Di un salvatore Sii pronto Sì ciao A proposito De piante Senza acqua Siamo benissimo Che anche L'essere umano E guardo Su pagina 21 Repubblica Raddoppia la sette Nel mondo L'arma L'arma è acqua E ora Per fare 10 litri di benzina Che vuole Un litro D'acqua Per fare Un litro di benzina 10 litri d'acqua Per fare Un litro di birra 30 litri d'acqua Per fare Un chilo di farina 1500 litri D'acqua 4500 litri D'acqua Per un chilo di riso E 100.000 litri D'acqua Per fare Una scocca In alluminio Per un Kilogrammo Di alluminio Dunque Qua c'è Una mappa Appunto Del mondo Dove c'è Più o meno Acqua Qua stiamo Ben L'Europa C'è la Romania Che ha Il colore Arancione Dove c'è Scarsità D'acqua E pensare Che sarà Il Danubio Il Danubio Che c'è L'Asia Che comincia A naspare L'Africa Naturalmente Che è L'Eterna Assettata Un po' Di Sud America Piante Acqua Ma se tu pensi Ad esempio Quest'estate Si era parlato Del Rio Dell'Amazzoni Che in alcuni punti Si erano seccato Poi questa notizia È sparita completamente Dai giornali Però quella notizia Quanto è rimasta Sui giornali Sulle televisioni È rimasta Sia in una settimana Poi questa notizia È stata cancellata Si 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 Chiuso Chiuso Dopo un'altra cosa Tornando Al Colossal No Si Che si deve fare Un lavoro Un lavoro Certosino Di no Di demonizzare Di trarre Diciamo Il paganesimo Diciamo Gli anni Cioè Il tempo Prima Della venuta De Cristo No Si È probabile È probabile Si perché pare impossibile Vediamo Il gladiatore Dopo che c'era Caligola I vari Film I vari Colossal E guarda caso Se tutti gli attori E tutti i registi americani Questo E ha speso 120 milioni Di dollari Per fare Questo qua Ti va tenendo conto Che poi I cristiani Fondamentalisti Americani Hanno un peso Non indifferente Sulla produzione Del film Hanno i soldi Hanno Il potere Di imporle Il canovaccio La trama Del film E noi Ci dimentichiamo L'attore Il fondamentalista L'attore Australiano Ben Gilson Nel frustare Perché la scena Della fustigazione Tu parli di The Passion Di Mike Gibson Suo padre Ha detto Che è stato Suo padre In casa mia Ha detto Sono tutti I fondamentalisti Cristiani Io sono come Mio padre Mi ha segnato Bene Ho fatto Un'intervista Si Non occorre Neanche Se ho Dizi Insomma Si vede Anche Insomma Così Mi sembra Amiche Che sia Come Una specie Con questi Colossal De Roma Troia Troi Insomma Così Portare E far vedere A gente Come Che A verità Si falsificare La storia Poi è arrivato Il cristianesimo A modificare A stratificare Tutto La verità Storica Di Roma Se uno Vuole La può scoprire Si arma Di buona volontà Di capacità Di studio La scopre Allora La storia Nelle Diciamo Nelle 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 massi Insomma Per televisione Così Negli documentari Non la vedremo mai La storia vera Diciamo No La storia Proprio Come è stata Come si è Evoluta Le varie epoche Le varie fasi Insomma Non è difficile Insomma Si Si sa che I romani Si sa che I barbari Erano Trucidavano Per nulla Cosa che non è vera Guardavi per storto Un imperatore Veniva e tagliato la testa Cosa che non è vera Anche questa E così Insomma Ecco Tutto qua Bene Va bene Vedremo dai Non ti preoccupare Ivano Ciao Ciao Sono delle cose Che logicamente Danno fastidio I monoteisti Che è la ricchezza La complessità E la Incredibile intelligenza Del mondo Pre cristiano Sulla storia di Roma Ad esempio Ci potrebbe essere Una notizia vecchia E non una notizia nuova Che corrono vicine E che sembrano dimostrare Che forse I pre cristiani I antichi romani Prima della vita di Cristo Erano più intelligenti Racconta la leggenda Che poi non è leggenda Che Romolo Per fondare la città di Roma Scesse il posto Perché vide in volo Su quel colle 12 avoltoi Praticamente Sapete che Una delle pratiche Fondamentali Una delle pratiche Molto frequenti In antica Roma Era lo studio Del volo degli uccelli Qualcuno può trovare Che fosse una pratica Strana Alquanto astrusa Ma se noi leggiamo Il Corriere della Sera Del 7 marzo 2006 Dice Studiare il volo Degli uccelli Per capire I mercati finanziari Studiare i comportamenti Collettivi Del mondo animale Come quello Di un gruppo Di uccelli in volo Per capire Le fluttuazioni Del reddito O il crollo Del mercato finanziario E' uno studio Che intende analizzare L'interazione Tra una molteplicità Di individui Attraverso il contributo Di discipline quali La fisica La biologia L'etologia L'economia Allora Si rende conto Che se noi osserviamo Le comunità Degli animali Il popolo Degli animali Se osserviamo Il loro comportamento Potremmo trarne Esempi Anche per la nostra civiltà E allora Romolo Osserva 12 avvoltò In volo E vi fonda Roma Dopo 2000 anni Qualcuno studia Il volo degli uccelli Per capire Come vanno I mercati finanziari Forse Romolo Aveva ragione Stai pronto? Ciao Ciao Guarda che gli animali Dal mio punto di vista Sono più vicini Alla realtà Che questo tipo Di essere Che se c'è Ma Tutti siamo vicini Alla realtà Poi potremmo Potremmo essere sciocchi Nell'osservarla Di fare i cechi E faccio un esempio Dimmi Che se è un mio amico Che cade strappa tre anni Un can da valanga Si E ora Il che sconto L'uomo Sotto la neve Si E il can Lo gacata Lo gaccia pa Pa l'esterno qua pa pa Si Ai vestiti Pa tirarlo fuori St'altro Che cade una sberla E il can Non capì fatto Il can da valanga Io gaccia sinà Cioè E il can È logico Se ti ti metti In fiocco una volta Non ti crede più Mentre l'uomo Ti ti metti In fiocco una volta Va bene Quello è un problema Culturale È un problema Delle capacità Delle persone Di capire le cose Ma voi Jamasse È voluto uno Che se fattore Poi cesto Cento Dosento volte Beh sai Esistono anche i masochisti E mica li possiamo impedire Di essere Ma Che cattolice Edimo I gaccarei I masochisti Sì va bene Però c'è C'è la capacità Delle persone Se vogliono di ribellarsi Insomma Cioè non siamo certo Noi dobbiamo salvare gli altri Se gli altri Non se ne accorgono Certo Noi non andremo A portarli Dall'altra parte Insomma Ma che c'è che ha detto Che chi che nasce a Mona Probabilmente Non guarisce più Esatto Poaretti È una virtù Ma nasce a Mona Non si guarisce più È una disgrazia Di chi è Mona Dopodiché Se questi va a farse Benedire Dal cristianesimo O da qualche altra Regione Poaretti E vive il signore Di infinite E gli manderà A farse a benedire E cosa ho dovuto dire Buon venire dai teatro Bene, ciao Ciao Beh Gli antichi Certo avevano Un'intelligenza Avevano comprensione Se voi pensate appunto Che esistono scoperte Enormi Che dimostrano Come in realtà Gli antichi Avevano Un'intelligenza Per le cose Significativa Vi do Una piccola notizia Di archeologia Come sapete L'archeologia Non dimostra Mai nulla Di quello che sostiene I testi biblici In realtà La tecnologia La scienza Tutto dimostra Come gli antichi popoli Che vivevano in contatto Con il mondo Con la realtà Erano capaci Di correggere le cose Di percepirle Di misurarle E di esserne in contatto E ora Queste scoperte archeologiche Ci danno fastidio E allora vanno occultate Leggo dal Corriere Del Sole 24 ore E pochi giorni fa L'istituto archeologico Di Halle In Germania Annunciato Di aver risolto Il mistero Del manufatto di bronzo Col Sole Luna E stelle d'oro Datato 1600 anni Avanti Cristo Il disco di Nebra E' un orologio astronomico Usato per calcolare Le dische pranze Fra il calendario solare E quello lunare La notizia contiene Due rivelazioni La prima E' che nell'età del bronzo I nord europei Erano più evoluti Di quando ci si aspettasse E la seconda E' che già 3600 anni fa Gli esseri umani Da Babilonia Alla riva del Reno Erano alle prese Quel grande ingannatore Il tempo E allora Noi abbiamo sempre visto Queste popolazioni Di 3600 anni fa Come dei selvaggi Come dei barbari In realtà Siamo impiegati anni Per capire Che avevano costruito Un orologio astronomico Per usare Le discrepanze Fra il calendario solare E quello lunare Un orologio 3600 anni fa Età del bronzo E come sempre Vengono presentati Come selvaggi Incapaci Persone che erano Privi di intelligenza E di capacità Da tonde il monoteismo Va sempre In questa direzione Ma vi voglio dare Una capacità Del mondo Di essere Stupefacenti Qualcuno di voi Avrà sentito parlare Dei frattali Sapete che I punti frattali Sono una scoperta Della matematica Molto recente Sappiamo appunto Che Tutto quanto Cerca di I frattali Sono la produzione Di forme Tramite calcoli Matematici Eppure In realtà In natura Quello che noi Stiamo elaborando Come matematica Da pochi decenni È sempre presente Scrive Sole 24 Che cavolo La natura Produce molti esempi Di forme frattali Gli oggetti Geometrici Che si possono Dividere in parti Ognuna delle quali È simile All'oggetto originale Il cavolo romano È una di queste Ogni parte È una riproduzione In scala del tutto E viceversa Allora Sarebbe bastato Che noi Osservassimo Con attenzione Queste piante Osservassimo Il cavolo romano Per avere La dimostrazione Concreta Di come si fa Un frattale In realtà L'ignoranza Che il monoteismo Ha portato all'Occidente Ha portato all'Europa Ha impedito Che per secoli Ci fosse La capacità Di comprendere E di conoscere Cosa significasse Lo studio Della matematica È del mondo Eppure Il mondo La capacità L'avevamo sotto Sotto i nostri occhi Non sotto La nostra fede La nostra fede Ci impediva Di osservare questo E ci sono voluti Secoli Per poter Scoprire Quello che la nostra Matematica Ha impiegato anni Per elaborare Con molta semplicità La natura Lo produce Ogni volta Un frattale Nel cavolo romano E perciò State sempre attenti A quando qualcuno Viene a parlare Di possibilità Di conoscere Ma dicevamo appunto Che noi scopriamo Sempre Maggiormente Che gli antichi E chi non ricorda Tutte le discussioni Fatte 3.000 anni fa Nell'Accademia di Platone Per cercare Di comprendere L'energia Di comprendere Il mondo Per comprendere La bellezza Dei calcoli Per comprendere La matematica E di conseguenza Basterebbe Che noi Volgessimo Lo sguardo Verso l'antico Per comprendere Questo Però questo Non si fa Perché le persone Devono essere Ignoranti E allora Leggiamo Repubblica 11 marzo 2006 Val di Templi A rischio Cusura Pochi soldi Mancano i custodi E lo può sembrare Strano Come L'Italia Che è considerata Uno dei maggiori paesi Con patrimonio artistico Mondiale Non ha i soldi Perché Per i vari custodi Per tenere avverti La valle dei Templi Ma è proprio così E allora Leggiamo Dal sole 24 ore Scuola 3.000 nuovi docenti Di religioni Il ministero Dell'istruzione Ha autorizzato Ad assumere Nell'anno scolastico 2005-2006 3.077 insegnanti Di religione cattolica In seguito Al superamento Del concorso Previsto dalla legge 186-2003 Lo prevede Il decreto Del Presidente Della Repubblica Del 17 gennaio 2006 Pubblicato Sulla gazzetta ufficiale 57 del 9 marzo 2006 Io voglio ricordare Che Un ministro Dei beni culturali Considerato Un filosofo cattolico Ha chiuso La domusarea Di Nerone Dicendo che Mancavano 5 milioni Di euro Per il restauro Ma è proprio così I soldi Mancano Leggiamo Dalla prima pagina Del sole 24 ore Vediamo Del giorno Che giorno è Questo qua Del 15 marzo 2006 Non secoli fa Alle parrocchie Le piccole eredità Di fine legislatura Una pioggia Di 195 milioni Di euro Sta per arrivare Su 861 Enti pubblici E privati Tra province Comuni Associazioni E parrocchie E come sono ripartiti Questi soldi Allora Non c'hanno i soldi Per tenere aperta La valle di templi E per il restauro Di tante chiese In tutta Italia 203 interventi Il 23,6% Del totale A favore Di diocesi E istituti Religiosi 195 milioni Di dollari Ma andiamo A leggere Dove vanno Anche questi soldi La chiesa La chiesa La chiesa di San Francesco Di Paola In provincia Di Palermo Ottiene 1,2 milioni Un quinto Degli interventi Previste dal decreto Il 23,6% E' a favore Di artigiotici Diocesi Chiese Parrocchie Istituti religiosi Per lo più Per ostentare Edifici di culto E poi Hanno anche Lotto per mille Va bene Sì pronto 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 Sono linea Ciao sì Ciao Paolo Sono il presidente Onorario Della seduzione Marco Fontani Pagano Politezza